Ciao a tutti benvenuti a New York, no non è vero Ciao a tutti benvenuti o bentornati su Pepita TV, io sono Priscilla Io sono Paz Polo E oggi siamo finalmente in una nuova puntata di Non sapevo di essere in un podcast che è un po' che non facevamo Esatto, noi andiamo un po' così in fazzi logica Abbiamo un palinsesto completamente casuale Non si aspettavano tra l'altro perché comunque abbiamo già iniziato lo special estivo Abbiamo già iniziato la programmazione un po' più casuale Invece no, vi beccate sto podcast, ciao sigla E' lunghissima Eccoci Di cosa parliamo oggi? Allora, volevo parlare del delitto di via poma ma ci ha già pensato Stefano Nazzi in indagini Te salutiamo Quindi rimaniamo Possiamo raddrizzare però il quadro perché Ti ha gesto Sicuro? Non è raddrizzabile Parliamo di cose che ci competono un po' di più Cose che ci competono Tipo stai guardando Secret Invasion Allora Papam Partiamo lì Ganci forti Non potevamo partire da delle cose più emozionanti No così ci tagliamo subito la merda Sto guardando Secret Invasion Sinceramente Guarda l'ultima volta che ho visto il trailer con Johnny L'ho detto ma secondo me Secret Invasion sarà una mezza figata E niente no E no E anche stavolta non ce l'abbiamo fatta Non ce l'abbiamo fatta Non stanno azzeccando una serie che sia una Ma io non riesco a capire probabilmente lo scrittore di questa serie perché volutamente Ne parlavamo l'altro giorno Marvel sta reclutando degli scrittori che non siano affascionato del MCU piuttosto che dei fumetti Cioè secondo me sanno un cazzo Esatto Qui è che non sanno un cazzo E quindi sta venendo fuori una serie TV scritta da un procione schizofrenico Con tretti di cocaina E boh raga E tutti ci troviamo sempre a dire ma la serie Cioè la serie Comunque la storia dei fumetti era figa Perché non lo usano? Perché non lo usano? Però loro dicono Ma i fumetti che cazzo stavano i soldi Per giustificare di essere pagati probabilmente Esatto esatto Anche per magari distaccarsi un pochettino lo posso anche capire Il problema è che fa proprio cagare Il problema è che fa proprio cagare Per adesso siamo alla seconda puntata Lo sviluppo orizzontale è Quanto meno raffalzonato e frenetico Perché inizia dicendo Oh lo sai che ci sono? È pieno di scroll qua Ma come? Cioè raga un po' di brivido iniziando No no sembra come quando torni dalle ferie e ti trovi la casa piena di insetti Esatto All'improvviso Cioè non è che c'è un minimo di backstory Esatto esatto Ma poi a me la cosa che mi sta facendo particolarmente incazzare È che Nick Fury è diventato in 5 anni di Bleep Non ho più un qua però Ah perché sto uscendo Sì ma tu Nick Fury è di Bleep Nick Fury sta diventando praticamente in 5 anni di Bleep Più altri 5 anni chi lo sa Non è ben chiaro anche lì quando Sì Svariati perché lui è molto vecchio adesso Ah sì Ma il Bleep è in vecchia Il Bleep è in vecchia Il Bleep fascica non impegna È diventato un grande coglione Cioè non sa più niente A un certo punto lo arrestano E non se ne rende neanche praticamente conto Ti posso dire Secondo me è Samuel L. Jackson Che non c'ha più voglia Ha detto Ma devo farla veramente Sta puttanata È prodotta da Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson Che per fare le scene dove è giovane E quindi dove dovrebbe essere più magro Perché adesso Samuel L. Jackson 70 anni ora Non so quanti ne ha 65 tipo Ha iniziato a avere le sue berette Deve tirare indietro la pancia E quindi fa tutte le quadrature così In squadretta per tirare indietro la pancia Sì bene ma non benissimo Facendo a Skrull Anche lì quantomeno raffalzonata Perché noi l'abbiamo lasciati con Capitan Marvel Tutti amici Ci prendiamo per mano Cantiamo un kumbayé E adesso c'è Adesso no Presa male Adesso no Presa male Quindi Maria Hill Che Tutto questo video è spoiler Vabbè esatto Se non l'era già chiaro La seconda Seconda No La prima La seconda c'è Vabbè comunque sia tanto è tutto spoiler Quindi ormai ve lo beccate Sì Maria Hill Che tira il gambino Sì Quindi Che per carità Non è che sia proprio Oh no Maria Hill Vabbè è l'unica cosa In tutta la moda Ho detto oh Dai le vogliamo bene Oh Cioè comunque mi è spiaciuto Vabbè anche a me spiace quando pesto una merda Ma poi me ne faccio una ragione Sì però la prima cosa che pensi comunque in una serie in cui ci sono gli Skrull È che cazzo è morto uno Skrull comunque Dai Può essere può essere che sia morto uno Skrull Anche perché diciamo tutta la sottotrama di Secret Invasion Per chi non la conoscesse È che non ti puoi più fidare di nessuno Quindi l'allure Il profumo è quello di quando si è scoperto che erano tutti Hydra Più o meno è la stessa cosa Però su scala molto molto più grande Perché gli Skrull essendo Shape shift Come si dice Mutaforma Mutaforma Possono essere ovunque In tutte le cariche dello Stato E infatti Secondo me è pazzo È uno Skrull Esatto Ora ti taglio un dito Vediamo Esatto Muta perdesima L'Italia Comunque sì La situa è quella Però sta di fatto che lo sviluppo di sta storia Lo sviluppo di sta storia Già non c'è un grande sviluppo Sembra tutto un po' raffazzato E poi a me è piaciuto molto che ci hanno messo la faccenda a Russia Così Tra Buttaci i russi che fa sempre figo A me è data tanto l'idea che sia tipo una stagione venuta male di Agents of S.H.I.E.L.D. Cazzo Cazzo Cioè le ultime stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Erano partiti bene e poi finiti in vacca Io le ultime non l'ho capito Cioè io ogni volta dico Ma raga ma io ho saltato una puntata o 12 stagioni Perché non l'ho capito Esatto Comunque sì Ah quella roba là Sì 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 Secondo me il sceneggiatore ha detto Ok non leggiamo i fumetti Vediamo Agents of S.H.I.E.L.D. Vediamo Speriamo che non guardino in umani Il mio pensiero Spero Quante puntate dovrebbero essere? 6, 8, 10 Penso 8 Di solito sono 8 Si tarano su 8 puntate 6 o 8 Sì 6 o 8 puntate Comunque Vediamo Allora al margine per la risalita c'è tutto Ma al margine sì perché siamo a due puntate per ora è merda Però diciamo che se parti con le due puntate che già fanno successo Io non ho tanta voglia di continuare a vederlo Cioè questo video uscirà di martedì no? Quindi domani C'è la prossima puntata Io non è che sono lì che dico Uh è mercoledì Wow c'è Secret Invasion Mi metto lì con il mio gelatino A guardare Secret Invasion Non ne ho nessuna voglia Lo guarderò solo quando non c'è proprio più niente di meglio da fare Per andare a dormire È vero È quella un po' la situa Se già le prime due puntate sono così Boh Ma poi lo diciamo raga Allora va bene fare le serie tv A me sta bene tutto Anzi grande fan Marvel Contenuti Mi sta bene Ma non puoi fare Secret Invasion senza nessun supereroe Eh sì Non puoi raga non puoi Cioè voglio dire il poster di Secret Invasion era la maschera di Spider-Man Dove si vede che sotto c'è uno scroll Porca miseria Qualcosa va fatto anche in quella direzione Magari può fare Massi che Tom Holland fa la bomba No secondo me no Non hanno previsto un budget che prevede qualcuno oltre la summer No ci filano qua Moon Knight Quello che costa poco Filano i supereroi I supereroi di TV I medi eroi infatti O Shiuke che già perde Tron Fatta il CGI Non ci serve neanche l'attore Può essere che ci mettono i medi eroi Adesso il voto cosa gli dai Non per me non raggiunge la sufficienza No io gli do un tre puliti Sì Io gli do un cinque Io quattro e mezzo sperando che cresca Eh io gli do un cinque perché c'è Samuel L Jackson Grande attore Quando lei ne è comunque la sua top Quindi c'è Parliamo che c'è anche Daenerys Sì c'è Emilia Clarke Sto facendo una paa C'è Emilia Clarke che però appunto anche lei Per chi non mi conoscese Ma in realtà siete tutti che mi conoscono Quindi va benissimo Siete il mio pubblico Io faccio il comico E a recitare Io sono un cane ma con la C maiuscola Potrei fare la parte che fa Emilia Clarke La potrei fare ma morbidamente E prendo un debito di Donatello Perché fa questo Fine Oppure Cosa L'unica cosa che stanno set upando in questa serie Che potrebbe essere interessante è Super Scroll Però Diciamo anche lì Non è un mai più senza Ecco Non è che Buongiorno ragazzi Secondo me l'abbiamo parlato già fin troppo Di queste prime due puntate di Secret Invasion Passerei ad altro Io tra l'altro Rimanendo nelle cose brutte della Marvel Così la ce la togliamo subito La chiediamo anche perché sono passati diecimila mesi Da quando è uscito Non so neanche perché lo sto dicendo Ma perché l'ho messo nel video di New York Che sul volo per New York Ho finalmente visto Wakanda Forever Finalmente Mi sono addormentata due volte Però l'ho comunque poi finito No poi l'ho tornata indietro Entrambe le volte Per finire Ti faccio una domanda A te Namor Ti è piaciuto? No Namor 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 No non mi è piaciuto per niente Allora l'unica cosa bella sono le alette No non mi è piaciuto per niente Tra l'altro l'attore Fiero No sì però Boom Ah basta perché? Fine Anche lui? Palpeggiava? È morto È morto Ora come ora Se ti affeziona l'attore Lui poi inizia a palpeggiare E lo fa un fuori No non lo so di preciso Non mi sono piaciuti Non mi è dispiaciuta in realtà Era ovvio nel senso che purtroppo Essendo morto Chadwick Boseman Non è che ci fossero molte opzioni Comunque il fatto che lei diventi Pantera E come Non mi dispiace neanche Però è proprio noioso È proprio noioso Cioè non Non ci sono anche Ci sono anche degli spunti Che potrebbero essere carini Ma anche tutto un posto Gore power Va bene Cioè benissimo Però È noioso I miei due centesi Sono che se l'avessero fatto Di un'ora e quaranta Secondo me Poteva venire un film decente Però posso dire È lungo È noioso Però posso dire una cosa Dopo Ci hanno messo tante cose Però le puoi condensare Se tu Sì le scrivi meglio E le condensi Non c'è bisogno Di dilungarsi troppo Se tu vedi però La filmografia Se tu vedi Eh sì Mi viene scoglioso Allora se tu vedi La filmografia No Fino a Wakanda Forever Non c'è mai stato Un film di grosso richiamo Con tematiche serie È questa la cosa Tu hai Gli Eterni Che è il più serio Di quella tornata là Poi tutti sono O un po' più teen Oppure ci mettono L'appuntamento comico Insomma Quindi volevano Provare a fare il colossal Eh però Cioè nel senso In realtà Va benissimo Che mi metti le tematiche Anzi Va stra benissimo Sono più che felice Però non mi puoi buttare Tutto insieme Tutto il film Cioè Tralasciando completamente Non c'è La parte comica Non c'è la parte leggera Cioè No Così diventa una palla Perché comunque Siamo film Marvel Endgame Parte leggera Non è avuta mezza No però ci sono i personaggi Sono i personaggi Non c'è un personaggio Che faccia una battuta Mezza Cioè Cosa stai dicendo? No in Wakanda Forever Ah ok In Wakanda Forever Il mezzo comico Che alleggerisce un po' La tensione E poi si ritorna Alle tematiche importanti L'alleggerimento comico Che Wakanda Forever Verrà affidato Al capo degli scimmioni Che posso dire Nel Disney Un po' razzista Questa cosa Però lui Il capo della tribù Delle scimmie Lui ha quello Incaricato un po' più Di alleggerire Ma non alleggerisce niente Sì no Dai no Diciamo che secondo me Gli scrittori Lì sono stati bravi Tra virgolette A fare un film Dove c'è un fantasma Per tutto il film E gestire sta roba Dal punto di vista Cinematografico Quando sei la Marvel No ma quello sì Infatti nel senso Ci sta anche Tra l'altro Tipo anche l'inizio Il funerale L'ho trovato anche Molto carino Ah sì Quello è difficile Però Non puoi Come è stato rappresentato Mi è piaciuto Cioè è l'unico Supereroe Marvel Che come lo vedi Nei fumetti Tra virgolette È Orecchia punta Slipino verde Alette sulle caviglie Vola È veloce È cattivo Va bene A me è piaciuto Cioè Se lo prendi Come un film Supereroe Sì a me non è piaciuto Che gli hanno comunque Completamente cambiato la storia Quello Quello Cazzo devi fare Però quello Era già arrivata La DC Con quella puttanata L'hanno già fatto Per praticamente tutti Quindi in realtà È una cosa Che non mi è piaciuta Ma Lì purtroppo La DC aveva fatto Aquaman prima Acqua me la va D'Atlantide E quindi Terrifregato Allora ho capito Comunque i luoghi Quelli Quindi è Cucca Cucca Capito Li puoi anche usare Il nome di Atlantide Anche se l'ha usato La DC Tanto non è che Acqua non fosse Questo capolavoro Ah no Però ce l'ha Gesù mamma Ce l'ha Gesù mamma E Amber E Amber E poi dopo Sul letto Di Johnny Depp Subito dopo Ha finito Le riprese E comunque Cacca Scoreggia A stare sotto l'acqua Chiudiamo un po' Il discorso Marvel Perché Stato dopo cominciare Visto che l'ultima puntata Non mi ricordo Quando è Grandi annunci Marvel È stato posticipato Loki È stato posticipato Tutti i film Diciamo Quindi Kang Dynasty E Multiverse War Ci sono stati problemi Di casting A quanto pare Ci sono stati problemi Di casting Da parte di E non è Wakanda Forever Questo Eh no Sono i braccialetti D'argento Ci sono stati problemi Di casting E problemi anche Di sceneggiatori Comunque perché Ci sono Sì C'è stato Lo sciopero Di sceneggiatori Ma soprattutto Jonathan Majors Anche lui Palpeggiava Quindi non si capisce Anche se È Ad oggi Confermato Come Kang Infatti hanno detto No 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 Lui è innocentissimo Ci batteremo Cercando in tutti i modi Di tenergli le mani legate Per un po' Allora Ezra Miller Comunque casini ne ha fatti Flash è uscito Ezra Miller ha fatto casini Ezra Miller ha fatto casini Ezra Miller ha rapito della gente Ha fatto delle cose senza senso Cioè Ezra Miller è fuori come un melone E il film ha fatto uscire lo stesso Quindi da un certo punto di vista Mi va anche bene A parte il fatto che l'abbiamo già girato Sì Poi L'attore è un cretino Ma Stacchiamo un attimo La prova attoriale Dalla sua vita privata È un cretino Poi non lavora più Il film l'ha fatto bene Cazzo Se è decente Fallo uscire Però è il problema di separare o meno La persona dell'artista Su riscaldamento Manchia un fotografico Eccoci qua Ezra Miller Che è completamente pazzo Ezra Miller È un po' il dubbio Se farlo uscire o no Alla fine L'ha fatto uscire Lui si dice che ha dei problemi mentali È tutta la luce vino Secondo me Mi avete aggiornato adesso brevemente Su quello che ha fatto Ezra Miller Posso dire Persona simpatica Sì Comunque Particolare Comunque Faccio una serata Sai dove inizi Non sai dove finisci Era per dire Kang Possibile che comunque Possa continuare a fare Visto quello che ha fatto Ezra Miller Sì 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 Secondo me Non lo so Io vedo la Disney Molto più attenta A queste tematiche Vedo Un'accettazione Fai che ti vedano anche loro Ok Vedo da Un'accettazione Dal parte dei fan Marginale Rispetto al personaggio Di Kang È piaciuto È piaciuto Ma non è piaciuto Si pensava di avere Più quello spessore Lì Cazzo Quando Thanos È spuntato per la prima volta Ragazzi Thanos Quando entrava nella stanza La gente muta Perché Kang Non ha fatto questo Perché non gli hanno creato Quello hanno presentato Molto serio Cattivo Kang È entrato Già come un giocherellone Quasi È comparso in Loki È una delle sue varianti Sì Una delle sue varianti Non è entrato Come quello che sarà Sicuramente il villain Lì Non si capiva ancora Tu l'avevi capito Però Boh Non lo so Non hanno creato Il giusto hype Per me Cioè Thanos Non ha neanche Pian piano Inizia a sentire Che sta arrivando Il big villain Kang no Sì Vero 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 Però C'è da dire Che secondo me Anche dal punto di vista Di scrittura Di Kang Kang Da punto di vista Di character design Si poteva fare qualcosa di più Cioè Conoscendo anche Le capacità di Jonathan Majors Si poteva fare qualcosa di più Ma insomma Ha lasciato tutti i buoi perplessi Quindi Non vorrei che la Disney Prenda la palla al balsa A dire Non sei abbastanza bravo per noi Prendiamo lui che è bianco Prendiamo Ezra Miller Prendiamo Ezra Miller Che è un po' più fuori Voilà Insomma Grandi stravolgimenti Dovrebbe arrivare Loki A ottobre In teoria Ok Sì Però ne veniamo Dal grande capolavoro Che è Guardia Galassia 3 Cioè Guardia Galassia 3 C'è il video a parte Ve lo potete andare a cliccare Al link qua sopra È vero È vero Vabbè Ah e Flash non l'abbiamo visto Voi due non l'avete visto No Io sì Vai Perché Flash In realtà Io sono un uomo MCU Però Flash A me mi ha sempre fatto godere Vabbè Ma te lo permettiamo Non è che Hai guardato anche la serie televisiva Sì Ok Fino in fondo No Sono arrivato al Flashpoint Della serie tv No no Sono andato anche avanti Eh ma perché lì poi dovevi aver visto Tutti gli altri che mi facevano schifo E quindi Io mi sono fatto forza Ho guardato anche tutti gli altri Cazzo Cioè Guardare Supergirl Arrow Le prime non erano male Ma insomma Troppo teen Però ve lo sono guardato Quanto meno Vedi quello là È brutto Budget Zero Zero Budget praticamente Power Ranger Bebita tv Ish Gli unici effetti sono Sui fulmini Che hanno capito come fare Nella prima Assolutamente E poi li hanno ricopri Però cazzo Fumettoso 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 da matti Cioè Tu ti aspetti Reverse Flash Reverse Flash Arriva È lui È Eobard Tone È esattamente Come hanno strutturato la cosa Ti aspetti Savitar Spunta Savitar Quindi Fumettoso A me è sempre piaciuto Ho visto Flash Badilat di CGI Proprio Badilat di CGI Buona o poverata? No Discreta Discreta Cioè non Si vede che è CGI Però è CGI Fatta bene Quindi è molto in linea Con gli ultimi film DC Insomma Non è dispiaciuta Il personaggio È sufficientemente Simpatico Paraglado Ezra Miller Si ha Ragione Diciamo che ora Noi separiamo La persona Esatto E Trama Trama Non ti fa addormentare Ok Quanto dura? Due ore Abbondanti Sì Due orette abbondanti Non succede niente di che C'è Si sa Non è uno spoiler C'è Marco Tito Ecco Diciamo Facciamo la trama Per chi non l'avesse visto Per chi non lo volesse vedere Ora vi beccate questa mega sezione spoiler Dove vi racconto il film Io non so se la voglio sentire Se vuoi puoi uscire dal video Esca un attimo No vabbè dai A me non interessa Post Justice League Capisce che può tornare indietro nel tempo Ok Ok Quindi All'ennesima ingiustizia Nei confronti del padre Del suo processo Lui dice Sai una cosa? Non mi sono rotto il cazzo Pum Entra nella Speed Force Capisce come gestire la Speed Force Quindi come riavolgere il tempo E cambia una piccola azione Di quella mattina Dove venne uccisa sua madre Che Non fa nessun riferimento Alcuno A Reverse Flash Ok Assolutamente no Cioè a quanto pare dicono Quindi crea un Flashpoint Comunque Crea un Flashpoint Assolutamente Infatti La tematica del Flashpoint C'è Poi ti dirò delle cose fuori onda Però C'è Ma te le dirò comunque Non l'ho raccomandata Crea un Flashpoint Ma L'uccisione della madre Pare che sia Per una rapina Cioè Era Quelle classiche cose Che nei film del tempo In cui È un evento Incambiabile Sì È un evento Questo è proprio Uno dei fil rouge del film Che ci sono degli eventi Incambiabili Quindi Quelli sono Ed è diciamo Un film tutto Sull'accettazione Di quello che può succedere Tirando i soldoni Michael Keaton Big Yes Vecchio come il cucco Ma Big Yes Michael Keaton è sempre Big Yes Però raga Big Yes Proprio nei panni di Batman Proprio Big Yes Perché ci siamo affezionati O perché proprio Cioè ci crede È fatto bene Cioè È un grande attore lui Quindi ha capito È comunque uno dei migliori Batman Che abbiamo avuto Ha mollato il costume Batman è dell'84-2 Ora non mi ricordo Quindi No Non è dopo È dopo secondo me Vuoi dire Sono messo di 90 Batman No C'è la nostra età Tipo 87 Facciamo così Ok 30 fischi anni Ha mollato il costume L'ha ripreso Dopo 30 fischi anni Cazzo è Bruce Wayne Cioè Non ci sono palle Là in mezzo Molto più Bruce Wayne E lui Di Ben Affleck Di Ben Affleck Anch'io Sono più Bruce Wayne Cioè Per quanto Il suo Batman Adesso non ne vogliamo parlare Quello Da alcuni è piaciuto Diciamo che Sembra un film Come nei fumetti Ci sono le storie Dove poi lo fa Tipo Frank Miller Sì Ok Ecco Quel Batman lì Potrebbe averlo fatto Un altro Che è una storia parallela Interessante Meglio di Clooney Comunque Meglio di Ben Affleck E meglio di Val Kilmer Ecco Voleva arrivare Un nome che hai citato Val Kilmer Clooney Clooney Cosa succede? Basta Vi saluto così Flash Voto 6 Ok Quindi questo Non ho spoiler Non ho spoiler Adesso mi hai messo voglia Di vedere Flash Pensate che non penso E ancora in cima Non ci sarà un seguito Secondo me Non ci sarà Non con Ezra Miller Non con Ezra Miller Che nel frattempo Sta creando un raggio Della morte Per polverizzare Qualche etnia Probabilmente Esatto Una setta nascosta Esatto Uno status perduto In realtà faranno un film Con Ezra Miller Ma il cattivo è Ezra Miller La sua setta Esatto 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 Ezra Miller Interpretato da Jared Leto Probabilmente Esatto 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 Però insomma Secondo me Non avrà un seguito Bisogna vedere cosa ha in testa James Gunn Che dopo il grande successo Di Guardia una Galassia Ora seguirà tutto Il DCU Esatto Sarà il Kevin Feige Della DC Eh anche Che questa forse sarà Una gran cosa Potrebbe venire Qualcosa interessante Io sono sempre convinto Che Nolan Ha fatto i migliori film DC Tutti siamo convinti Non c'è bisogno di discutere Perché non andate Su quella filone lì Non l'ho ancora capito Ma mi sta bene tutto Perché bisogna pagare Nolan Probabilmente Comunque non lo so Vabbè ho capito Prendi qualcuno Che scimmiotta Nolan E poi anche pensare di Basta fare i film seri Basta fare i film belli Esatto Bene Ecco Per chiudere Tutto questo discorso qua Prima mi hai detto Wakanda Forever Che è Perché hanno voluto Fare un film serio Però un film serio Si può fare Anche sui supereroi Perché pensa giusto Nolan Che cazzo a combinare Qui non c'è nessun siparietto comico E' anche un personaggio diverso Perché è Batman Concedimi Che Nolan Se vuoi fare un film serio Devi un po' tirare sull'astic Però Nolan ha giocato facile Se tu pensi Eh perché si è preso Batman E Batman Il Cavaliere Oscuro Sono tutti umani Sì Sono tutti umani E poi comunque A me manca un cast di attori Vabbè ma nel senso Che per dire Se vuoi fare le cose Le devi fare bene Fine Cioè se Pensa Wonder Woman Se l'avessi fatta Nolan Che figata Sarebbe stata una signora Che riesce a spostare Un po' di più le cose Hai capito Lui è molto grounded Non so perché Mi sono immaginato Francesco Salvi Che dice Cioè da spostare una macchina Arriva Wonder Woman Ma neanche Con i droni di Zimmer Tra poco uscirà Openheimer Andiamo di tutti a vederlo Quindi vabbè Comunque E va Possiamo arrivare a De Michele De Ribidia E parliamo De Michele Parliamo di Michele Ha fatto un bel lavoro Dai non si può dire Di no Fotto pieno Partendo dal presupposto Che ovviamente Fangirl Sempre Però Bello 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 L'unica Osservazione Che mi trovo Forse a dover fare È che Secondo me Ha accelerato la fine Ci stava una puntata In più Ci stava una puntata In più C'è stava Beh Sembra come se Alla fine Mi hai detto Sì ok Michele È bello Tutto Però dobbiamo finire In questa puntata Se ti puoi salire tutto Ti aspetti di vedere Cosa succede E poi negli ultimi Dieci minuti Dell'ultima puntata Praticamente succede tutto Ma secondo me È stata Cioè è una critica del cazzo Me ne rendo conto Secondo me è stata La forza della serie tv Questa Perché lui ha creato Un setup Pettinato Molto 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 bene E poi il clou Per dirla Come la direbbe Zero E sti cazzi Anche perché Se non hai detto Il finale affrettato Ma in realtà Cioè qual è la storia Che lui ti sta raccontando È quella del centro E delle lotte Oppure è la storia Di Cesare E della sua Non la vedo Sullo scontro Perché comunque Lui inizia Che sta raccontando Questa storia Perché cercando Sì però in realtà Quella storia lì È il pretesto Per raccontarti tutto il resto Quindi in realtà Poi il finale Di quella storia Cioè veramente Sti cazzi Perché Secondo me infatti Il centro della storia Non è quello che è interessante Il centro della storia Secondo me è proprio L'inadeguatezza Di una persona Quando cresce Quando vive Queste persone Queste Realtà complicate Cioè secondo me Le circostanze Che lo portano E infatti il titolo Secondo me è perfetto È perfetto E in realtà Secondo me la cosa bella Che cioè tu dici Delle persone Che vivono Ma in realtà Di tutte le persone Che infatti Quando poi lui Si trova Pre-battaglia Diciamo Che si trova lì Nel momento Di ricognizione E che giustamente Amicateiera O non mi ricordo Più se Amicateiera O secco Che gli dicono Guarda che tutti C'hanno i cazzi Secco 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 gli lo dice Sì Al momento Gedi di secco Che gli dice Hai rotto il cazzo Perché tutti C'hanno i cazzi Quale Tutti hanno la loro vita I loro problemi I loro rotture di coglioni Però tutti trovano il modo Per andare avanti E per incastrarsi Un posto nella vita Guarda devo dire Che ha scritto Ed è un po' quello Su me Ha scritto un capolavorino Secondo me La figata è stata Che in un video Tra l'altro Che avevamo fatto Prima che uscisse Con Johnny E Valentina Mi pare Johnny diceva Speriamo che Sai il primo Era molto Sincero Lui Speriamo che non si Non si venga In realtà Se vai a vedere Ha fatto esattamente Il contrario Perché il primo Cioè Strappare lungo i bordi Che ci è comunque Piaciuto Molto e tutto Era molto simile Alla profezia Dell'armadillo Come storia Era molto vendibile Qua va a toccare Delle tematiche Molto più difficili È molto più pesante C'è molto meno umorismo Cioè c'è ovviamente Un sacco di umorismo Perché è comunque Zoro calcare Però è molto più difficile Secondo me questa qua Rispetto a Strappare lungo i bordi Beh in un'intervista Cioè nel senso qua Cioè parla di Comunque Eroina Droga Situazioni disagiate Periferie E periferie dove ci sono Situazioni molto disagiate Parla di Nazismo Parla di Battaglie sociali Populismo Immigrazione Di razzismo E il clou Il clou che dici Che però appunto Non è veramente il clou Comunque alla fine C'è una roba Molotov e botte Sì Nel senso Dai In strappare lungo i bordi Era tutto un po' più pulitino E qua ha tirato fuori Quello che voleva dire Lui davvero In un'intervista Ho apprezzato Che ha detto Che comunque Ha tolto tanti riferimenti Alla cultura popolare Perché L'ho sentito anch'io Perché Il Diceva che il Il pubblico C'entra un altro Esatto Rispetto ai fumetti Il pubblico È diverso Delle serie Comunque non ha tutte Per forza Queste conoscenze NERD Per cui ha Tagliato Ha livellato un po' Quella roba lì E ci sta Quello effettivamente ci sta Ma poi Voi sapete benissimo Io sono un grande detrattore Di Zero Calcare Perché a me Non mi ha mai fatto impazzire Il suo humor Non mi ha mai fatto impazzire Ma tu hai sempre criticato I tempi comici I tempi comici Sì quindi Humore in senso lato Su fumetto Humore in senso lato E riferimenti alla pop culture Anche un po' così Buttati a cazzo Però devo dire Che è un bravissimo scrittore Cioè quando vuole centrare un tema Lo centra molto molto bene E per sua stessa missione Dice io magari metto qualche Appuntamento comico Per sgonfiare un po' la situa Quelli sono un po' maldestri Ma adesso che Lo conosco meglio Eccetera Posso dire che Alla fine ci può anche stare Perché il suo centro È un'altra roba Non è far ridere Il suo scopo non è quello Di farti ridere comunque Ed è tanta roba Tanta tanta roba Il primo era Ti devi far conoscere Sì 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 ma hai fatto il primo Era la posizione dell'armadillo Riscritta per Per la tv E la resa dei conti Un po' variata Perché non è la profezia Della robina No perché è la stessa cosa Che fanno i sceneggiatori Esatto E la resa dei conti In qualsiasi cosa che fai È la seconda stagione Sì E lui non l'ha sbagliata Anzi Ha alzato il tiro Volutamente è stato divisivo E Mi è piaciuto molto Lui ha sempre voluto Fare serie televisive Perché lui Quando disegna fumetti Vorrebbe che la gente Ascoltasse le canzoni Che lui ascolta Che si immagina Quando E qua arriviamo Al super top Di questa stagione Cumuli 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 Ma Tutta la colonna Sì comunque la colonna Sonora è ottima La colonna Scelta La sigla Clamorosa La sigla di Giancane È proprio bella Ha detto un podcast Quello L'ultima intervista Che ha fatto Ha detto una cosa Che ci fa Qual è stata la grande differenza Tra la prima E la seconda stagione E lui Devo dire Che a me I romani Mi fanno molto ridere Quando non vogliono Fare Mandati i soldi E va a musica E questa Cioè E posso dire Soldi ben spesi Soldi molto ben spesi Decisamente sì Io Otto Otto Bello rotondo Un otto pieno Glielo do anch'io Forse anche Gli do anche un po' di più Perché comunque ci sta No perché Può ancora crescere Ma Si mantiene questo livello Va proprio Se mantiene così Va la grande E secondo me Questa è esattamente La sua cifra Cioè Ancora più del fumetto Ancora più del fumetto Forse sì Forse sì Perché appunto Ti riesce a dare Tutto quel contorno Quel contesto Che nel fumetto Invitabilmente manca Cioè lui ha fatto Un film di tre ore La cosa molto bella Che è un film di tre ore A pezzi Cioè Ha una trama orizzontale Iper fedele a se stessa Sotto trame sviluppate bene Quindi Quella scomotona Ci sono altre pareti No sì sì Racconta più storie Ma le porta tutte Molto dolce Molto tenero In alcuni tratti Tocca delle corde Che inevitabilmente Tanti di noi Possono aver vissuto Quindi No poi è proprio bello Il fatto che Non è tutto nero È tutto bianco Che è una cosa Che secondo me Anche è ovvio Che A volte la vita Sarebbe più semplice Invece no Quindi tipo C'è tutto il discorso Di Sara Che è sempre stata Al suo faro Nella notte Palladina Della giustizia E tutto Però a un certo punto Anche Sara Giustamente deve Portare avanti la sua vita Oltre a portare avanti Quella degli altri E quindi Si ingrigisce un po' Perché La vita ti porta A ingrigirti Poi cerchi lo stesso Di fare la cosa giusta Che è quello Che lui cerca di fare Dall'inizio Però si incasina E non riesce a fare Bello Se la vi Guardatelo Se non l'avete vi Tra l'altro È anche bello Che in un'altra Intervista Che ho visto io O che ho letto Non mi ricordo Che diceva Che appunto Netflix è stata Molto permissiva In effetti Perché comunque Ripeto Tocca argomenti Anche non semplicissimi Fa vedere anche cose Che magari Non tutti Gli avrebbero passato Così Secondo me Che le uniche cose Su cui gli ha rotto Le balle Sono quelle del linguaggio Assolutamente Di evitare Ogni tipo di razzismo E sessismo Che più o meno Certo Ci riesce abbastanza Nel senso Che le uniche cose Un po' più sessiste Vengono subito Autosabotate Dai vari personaggi Quindi funziona Sì Poi mi è piaciuto Molto anche L'escamotage Che quando racconta Lui la storia Doppia lei Sara Sì Doppia lui Sara Quando invece Non è raccontata Da lui C'è il doppiaggio La voce vera Diciamo ha delle piccole chicche Qui alla molto molto belle Quindi bravo Michele Siamo amici adesso Più o meno Più o meno siamo amici L'importante è che Continuano a fare battute Ti invitiamo qua da Pepita Quando vuoi passare Quando vuoi Quando passi da Genova Che ci vieni spesso Ma soprattutto Ti chiamiamo Michele noi Capito Non ti chiamiamo zero Come tutti Ti chiamiamo Michele Michele Passa da Pepita Che ti diamo un po' di avvocaccio Dopo questo invito a Michele Con che cosa chiediamo Una cosa che io voglio andare a vedere Indie Indie Raga Esce già Esce stasera Non è già uscito Vabbè quando esce questo video È già uscito Che è già uscito Ma noi non l'abbiamo ancora visto Quanto meno Fino a che stiamo girando il video Io ho visto Io voglio andare Un unboxing di Kojima Quindi Hideo Kojima Sappiamo che Hideo Kojima Ideatore di Metal Gear Solid Quindi grande Videogamer Che ha fatto tutto gasato Sul suo Instagram Un unboxing Della box Diciamo VIP Di Yara Jones E L'ha fatto tutto Canticchiando Col suo Come posso dire Col suo accentino giapponese Favoloso Quindi In giapponese Hot E poi lo diceva anche in inglese Però sempre in giapponesissimo Fantastico Pen Comunque voglio andare Non l'ho ancora visto È uscito Non l'abbiamo ancora visto Voglio andare a vedere Io ho una paura fottuta Raga Lo posso dire Come diceva Totti Concedetemi un po' di paura Ma è normale Abbiamo tutti paura Tutti hanno paura Abbiamo tutti paura Ma adesso è ancora più vecchio Sono passati 15 anni Adesso L'hype di Però Harrison Ford Secondo me Dai la porta a casa Comunque il testo di cristallo Ovviamente non era Cioè Non è neanche paragonabile Però Non faceva proprio cagarissimo Ok No di più No Secondo me era bruttino Ma guardabile Era brutto forte Brutto L'ho riguardato Due mesi fa Era brutto forte Ne avevo dei ricordi Che mi sembrava Che non ci fosse A me sembrava Che fosse brutto Ma comunque accettabile Io faccio Io faccio un appello Faccio un appello Alla Bisnesi Volete fare Indiana Jones Lo volete fare Che spacchi veramente Fatelo con la fotografia Degli anni 80 Semplice Semplice Effetti speciali Con le corde Questa cosa è buona Easy E ci piace Se ci mettete la CGI Un po' mi incazzo Ve lo dico subito Eh secondo me Ah raga però Scusate Cioè tra l'altro Spoiler Perché poi questo uscirà Sui video di New York Io e Johnny Siamo stati sul set Dei Ghostbusters Eh lo so A proposito di anni 80 L'ultima parentesi Dai Barbie Barbie Deve ancora uscire Uscito Deve ancora uscire Barbie raga Andiamo a vedere Barbie si tutta la vita Barbie secondo me è un capolavoro Secondo me è una vaccata Che fa il giro Mamma mia Secondo me è un capolavoro Secondo me è una vaccata che fa il giro Io qua lo dico Non lo nego Non so se faremo video recensione È un capolavoro T'abbia registrata Capolavoro Allora facciamo la rubrica Coming soon Coming soon abbiamo Indiana Jones che è uscito ieri Barbie che è già uscito Anche lui Non so Comunque Sti cazzi Questi problemi sempre del futuro Del presente Del passato Openheimer Openheimer No Lanna che ritorna col botto Io ho visto le foto del casting Trailer L'hai visto Ho visto il trailer Però ho visto una comparativa Tipo Einstein Com'era Com'è fatto Tantissima roba Un filo pignolo E preciso No Ma ci sta E soprattutto Probabilmente Per quando uscirà la prossima puntata Del podcast Perché tanto noi ce la prendiamo Un po' così morbida È già uscito negli Stati Uniti Ma uscirà a settembre Il nuovo Ewe Sanderson Che noi Che siamo porti stoidi Ci piace Ci piace Ci piace Ci piace Ci bei colori sparati Ci piace Ci piace Ci piace Che si chiama Atomic City mi sembra Sì Ho visto Che parla Ho visto Il cast Stratosferico Insomma Ci piace Ci piace Chiudiamo dicendo Ho comprato Fire Phantasy 16 Così Ve lo volevo dire Show off 80 euro Bah Johnny ha comprato Hogwarts Legacy E io invece sono povera Perché non ho più soldi Quindi mi sono solo scaricata Un gioco per il cellulare Di Harry Potter Magic Awakened Io ho comprato la settimana Che è gratis E come? È gratis È una roba gratis È fin caruccio Vabbè la grafica è carina Comunque Tu ti fai il tuo personaggino Ti fai Vieni smistato nelle case Parli con la gente Roba E poi fai i combattimenti Con delle carte Ah Car game Gross Però è carino Perché in realtà Interagisci un po' Ti passi il tè Ti passi il tè Non c'era niente da fare Va bene Io ho Fire Phantasy 16 L'ho comprato Grande ritorno al medioevo Dopo 15 anni Di ultra futuro E cose molto brutte Non è più Fire Phantasy Voglio dirvelo chiaro e tondo Perché è diventato un action A tutti gli effetti I scontri sono a Devil May Cry Quindi Proprio un'altra roba totale Graficamente Molto molto bello Devo dire la verità Ho fatto un mega lavoro Sarà un punto di ripartenza Ci sta piacendo Se non fosse che io sto invecchiando E mi addormento col joypad in mano Ma tutte le volte C'è anche di pomeriggio Io raga Mi vedo una cutscene Mi sveglio Celomino fermo Così che aspetta Con la spada Però Bel gioco Bel gioco Invece la settimana di Mystica Piove è sempre tocca Sempre top C'è sempre G di Muro Bastardo Bastardissimo G di Muro Ti odio Questo è il mio nuovo nemico G di Muro Nuovo Ormai Però devo dire che Un cruciverba su due Lo faccio alla putrella per vinca No Sì sì Non ti rovini Solo quelli più infacili Fai così Vabbè Stiamo andando un po' troppo Nell'inside joke Spiegare Una putrella per vinca Una prossima puntata dedicata E niente Direi che abbiamo Direi che abbiamo detto un sacco di cose Quindi questo podcast Forse lo possiamo anche chiudere qua Ci sono un po' le nostre prime rece Di quello che abbiamo visto inizio estate Facciamo un po' degli eventi di Pepita Facciamo un po' di cose Facciamo un po' di marketume Adesso siccome appunto siamo in piena estate Abbiamo un po' meno attività bollenti Perché fa troppo caldo Però saremo all'Elite Festival Che è il 12, 13, 14, 15 luglio A Villa Bombrini Con un sacco di concerti super fighi E saremo anche il 14 luglio A Villa Rossi Per il Bau Fest Con i Mondo Generator Quindi ragazzi Se vi va di sentire un po' di musichina Di venirci a trovare Ci troverete in queste situazioni qua Poi saremo anche Prima di chiudere per agosto Che invece agosto Ce andiamo al mare Il 30 luglio faremo un'ultima festa Invece in piazza San Giorgio Insieme ai nostri amici del Kowalski Con cui ci piace sempre fare Delle belle festiciuole estive E quindi ci troverete in piazza San Giorgio Con tutti i nostri gadget Divertissement E cose varie E soprattutto una piccola preview Di quello che poi sarà la città di carta Che a settembre Ma ve ne parleremo più avanti Basta Questo è quello che succede Quest'estate da Pepita Passateci a trovare Guardatevi i nostri video Guardatevi i nostri A parte questo podcast Ci saranno tutti gli special estivi Sul viaggio a New York Ma anche qualche altro piccolo videuzzo Quello ha sparso E state lontani da Ezra Miller E state lontani da Ezra Miller Se vedete Ezra Miller Ma no va di corsa Via via Mettete like Subscribe Odiateci Fate quello che volete Ciao Bel mattacchione di Ezra Miller Scappa Ero Musica Ero